Ciao! In questo breve tutorial realizzato da Musa Formazione, polo didattico universitario per Pegaso, Mercatorum e San Raffaele, vedremo come sbloccare una sede d'esame. Nella sezione Appelli, presente nella tua dashboard, puoi visualizzare la sede o le sedi abilitate. Ricorda che, con la modalità All Inclusive, tutte le sedi risulteranno abilitate. Se invece non hai effettuato l'iscrizione con tale modalità, potrai sbloccare le sedi singolarmente. Digita la città della sede di tuo interesse e clicca sull'icona della lente di ingrandimento. Scegli la sede e clicca su Entra. Clicca poi su Acquista sede. Seleziona l'anno accademico di tuo interesse, accetta le condizioni generali e clicca su Abilita. Clicca su Prosegui e paga. Inserisci i dati della tua carta per il pagamento e clicca su Procedi. La sede risulterà ora abilitata. Guarda anche gli altri tutorial di Musa Formazione per imparare ad utilizzare al meglio la piattaforma e ricorda che, iscrivendoti con noi, hai sempre a disposizione il supporto di cui hai bisogno, dall'iscrizione al giorno della tua laurea.